Della scuola di grammatica è già documentata la presenza a Chiavari nel 1389. A metà Settecento Chiavari offre già un percorso di studi completo. È in questo periodo che nasce quello che oggi è il liceo classico cittadino, grazie alla generosità di due sposi, Benedetta Maschio e Giovanni Battista della Torre. In via Rivarola trovarono sistemazione una chiesa, una piccola chiesa che ha festeggiato recentemente i 400 anni dall'istituzione e poi la sede scolastica. L'edificio rappresenta la lungimiranza culturale di quel periodo, tanto che Chiavari viene chiamata città degli studi, anche per quella passione educativa di cui oggi se ne lamenta il declino. All'epoca anche la popolazione aveva a cuore i suoi istituti scolastici. Come nel 1817 i Savoia volero chiuderlo, i cittadini si mostrero per pagare loro quegli insegnanti che sarebbero stati a carico dello Stato. I Della Torre affidarono il liceo chiavarese alla gestione degli scolopi, in un periodo storico fatto anche di contrasti tra famiglie religiose. Nonostante questi contrasti, la presenza del clero fu un elemento di particolare stimolo e di particolare testimonianza perché chiedevano un'attenzione particolare alle istituzioni, alle norme giuridiche, ai protocolli medici, alle modalità di rapporto e soprattutto all'istruzione dei giovani. Lo scolopio Isnardi, ad esempio, venne chiamato da Carlo Alberto ad educare i suoi due figli, il Duca Ferdinando e Vittorio Emanuele. Alla società economica abbiamo i loro compiti e i giudizi che avevano meritato dal gruppo dei loro docenti.